Credo in Dio, Padre e potente, creatore e potente della terra, di tutto il Dio, e di seguiti dei bisogni. Credo in Dio, Suo Signore, Gesù Cristo, il genito figlio di Dio, nato dal Padre e prima di tutti i secoli. Dio da Dio, luce e la luce, Dio verde e l'unica, è generato e creato delle stesse sostanze del Padre, e per mezzo di cui tutte le cose sono state create, per noi uomini, per la nostra salvezza, discesa e nascita. E per ora, lo Spirito Santo si è incarnato nel seno della Vergine Maria, e si è fatto uomo. Il Cristo Cristo per noi è sottoposto e venuto. Maria è sottoposto. Il terzo giorno è risuscitato il secondo rischio di Dio, e salito in cielo si è dalla destra del Padre, e di nuovo verrà nella gloria per giudicare i miei morti, e il suo regno non avrà fine. Credo nel Spirito Santo, che il Signore è in allenata, e procede dal Padre e dal Figlio, e con il Padre e il Figlio è adorato e glorificato, e ha parlato per mezzo dei profeti. Credo alla Chiesa, una santa, cattolica e apostolica, professa un solo battesimo per il perdono dei peccati, e aspetto la risurrezione dei morti, e la vita del mondo che verrà. Amen. Padre e le sorelle, anche oggi ci sono tanti uomini e donne che non credono alla risurrezione di Cristo. Preghiamo il Spirito, perché confermiamo in noi la nostra fede e la nostra fede. preghiamo... ... ... ... ... M ... Grazie a tutti. 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 e a tutti. a tutti. Grazie a tutti. a tutti. Grazie a tutti. 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 grazie a tutti. a tutti. a tutti.